vado allo sciagallo vai 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 prima cassa di scorse presa ne restano due e quando è l'altro alberate abbiamo quasi sondi abbiamo i soldi abbiamo i soldi dove è il carrello arrivo e dai soldi ragazzi ma poi mi vedete ragazzi è niente ciao 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 mi tembolo munizioni messo notano vabbè devo trovare la prima se l'avete aspetta ragazzi adesso la votazione la tiro per me vabbè c'è un potenziamento da campo eh ah ah sto salendo qua sul tetto non c'è niente con il tetto allora che facciamo ci spieghiamo verso il centro c'è un pallone qua accanto che dita oh elicottero facciamoci sfruttare andiamo 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 a copola si 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 no c'è gente c'è gente andiamo più a destra che a destra qua è da salire in montagna vediamo pallone e veniamo che sto qua che dite c'è gente in montagna eh c'è una pinigli di surbo là c'è una pinigli di surbo lì guarda quanto smog ancora siamo qua al mio po lì c'è una conferita è davide ah si è caio ma Marco deve tirare la caffa di munizioni basta se ne è mare Arrivano dei nemici, attenzione in alto Non facciamo ruone Pazzo, buttatele Oh minchia, il cecchino mi butto, ma perché mi fa uscire fuori, ragazzi, non cade, non cade Oddio Ma perché mi fa uscire fuori il cecchino? Lenzio Oddio Bravissime, bravissime Bravissime Ragazzi, mi puoi prendere come sei? Guarda da lei, stai apposciando, stai apposciando Smoccate, smoccate fuori, smoccate fuori Ok, non vado Ok, non vado Elimina Sto compagno è stato autorizzato a riegge Granata partita posso venire ma poi davvero c'era una persona poco fa ho trovato un potenziamento che mi ricordo la scena di gianluca che vola che dite che ci spostano in quel palazzo non è meglio secondo voi sono più alti appunto giallo punto giallo che lì cerchino da montagna allora ci andiamo piano piano che poi dobbiamo attraversare il fiume pallone pallone no no non c'è bisogno che dici oh che ne pigliamo pallone bravo pallone va eh dove andiamo però vai segui segui esce esce cazzo come fa niente oh non manchini però se pigliamo pallone allora pallone ci andiamo oh vabbè intanto pigliamolo piglio in aria decine che dipende dove sono i miei amici via levo ping giallo levo ping che non vedo se c'è gente sì c'è gente c'è gente c'è gente c'è gente qua qua questa cosa questa cosa qua non passa questo oh uno che spara la mia sera kor etım EN mastema ci andremo dentro andiamo dentro ecco un po' dove dove no? dai nadawer oh dì che brutta sta casa con una mezza capito appunto vario richiedo un attacco ricevuto finix 2-3 arrivo attacco imminente ma c'è lui, c'è lui sento, come cazzo faccio a venire? a terra a puntuale ma c'è giallo aspetti, non sono un po' più qua ed intorno questo è un attacco un attacco un attacco a terra chulo aaaah no ma non va tutto la kill saremo qua? si non so se hanno grossato uno era uno in me la casata finita siamo perché sto pallone a me ne ho fatto a capo vendiamo che ce la ma ci sono in ha unirizzo 3 voglio regalare il cappos perciò io in capo è il bengalo non ricordo sempre che muore muore ma adesso no oh ben grave no minchia sto andando giù togliete il pingo blu cazzo in arrivo c'è una nuova zona sicura cioè dobbiamo stare attenti se questi salgono due da un lato e due da un lato ragazzi no abbiamo un'apertura ciascuno almeno abbiamo un altro anche una volta c'ero bello casello tra o la pari tra solo l'antima non mi so io ciccio tu che hai cecchino c'è una persona qua ho trovato delle corazze come mi sento bisogna non capisco oh sta qua dietro sta dietro che c'è c'era denatto un bravo uno si è buttato si è buttato questo non è solo due davanti e lui dietro ah si si come non detto però forse sono tutti i mili diversi perchè siamo saprati allora qua stanno stanno rientrando tra le persone tu a campo leggo poi sull'interno dai cerca dai ciascuno 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 due due minimo due sono ma ciascuno ma ciascuno ciascuno vado contatto vado 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 entra picciola qua devono rientrare dentro la donna è andato entrato toppe rischi abbiamo adesso poi se ci hanno pushato eh poi siamo liberati vittoria gulag minchia ma che non sei responsabile vai non ce l'ho ma come hai chiuso con la giannola perché si è chiuso in questo momento che c'è un carrello se vado in questo vai vai mi ha chiesto le soldi mi ha chiesto le soldi oh c'è gente c'è gente c'è gente in gioco sui va 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 resta qui resta me resta me c'è chi è gente c'è gente c'è gente ho gente c'è gente la picchia no no di ciò è campionato sopra questo coglione è sopra e sopra ancora ancora sopra non c'è scritto che c'è lo gialloco non c'è scritto che non valga vabbè no vabbè giallo che è morto io nel regolamento non c'è scritto forse non rinchan no ok rilo che rilassatemi 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 stocca ragazzi non ho manco munici un po' di un mietà e di botana stocca che stanno bruciando avete munizioni qualcosa ciccio ciccio capista maghiere bancato che c'erano affatto fa maghiere per solo d'auto no pigliere la cassa munizione ma comprati dei soldi soldi se facciamo se facciamo se facciamo io non ho problemi non so non ho secco ragazzi ragazzi non ho messo non ho messo ottimo ottimo viva ho appingato io uno cazzo d'anno cazzo d'anno dal sinistro 2 a terra, 2 a terra Stai in galla, stai in galla Arriva, 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 arriva No, che cazzo, no, che cazzo Che cazzo, no, no Che cazzo, no, no Raga, mi fa vedere il tiazzamento Che cazzo, no, che cazzo No, no Quante posizione? Beto, no, neanche una squadra No, no, non va a fare la barra No, no, vado a piedi, hanno fatto il teno Ehi, no, no, vado a piedi Che cazzo Mi piace tutto Vabbè, i focchiamo e i fissieri Sì, vabbè Cato, vabbè Cato, vabbè Dal cato ne vinta una, certo, sarebbe stato più bello Oh, però capito, mi simbolo molto alto, questo è un secondo poi Vabbè, voglio vedere i risultati, ragazzi, ma perché? Ragazzi, ci facciamo, non vedo mai la piccola Aspetta Ah, chi sti questi che mi chiamo, no? No, noi Non ti voglio dare un tagliaccelato d'occhio Ah, se ne ho capisco No, non è niente Ah, 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 non è niente La gente è niente Che viste da quanto è Dai, davvero è rifiutato Adesso siamo qui Forza!